Ma che sposa amici, ma che sposa Ma io ero pronta a fare un'incursione in telecamera E invece no, t'ho fregata E invece fai fregata, eh sì, ebbene sì Barbara, come stai? Bene, che bello rivedervi Piacere tutto nostro Vedi loro, vedi gli amici Eh, il minimo Allora, complimenti per la scelta dell'abito Non so se l'hai scelto tu Vado in discoteca dopo, ho messo un abitino giusto così Il primo che ho trovato Ma vai Per appalare comodo soprattutto Guarda, una manifestazione veramente spettacolare questa Sei la madrina Ma io ho presentato la serata Anzi, la stiamo presentando Perché si sta svolgendo al momento Non sappiamo ancora chi ha vinto Ma ti faccio una domanda Ti metto alla prova Vediamo Ma tu lo sai chi ha partecipato a Missondina Sport La signorina Nel lontano 1994 1919 anni fa La signorina qui presente Quando Geremia Schiavo mi ha chiamato Che è il patrono Per dirmi Vieni a presentare Missondina Geremia, ti prego No, ti prego, devi venire Perché quest'anno compie 20 anni Faccio meglio che edizione ho partecipato Era la prima Ah, ti metti i capelli dritti La domanda appunto è un po' cattiva Ma è questa Visto che tu hai vinto Quella del 1994 Non ho vinto io Sono arrivata terza Te lo dico Internos per i nostri amici Ecco, sentiamo Io con i concorsi di bellezza Sono un po' sfigata Sono 20 anni A Missondina sono arrivata la terza A Missidale sono arrivata la seconda Mi devo fare Però, oh, terza comunque podio Secondo posto comunque il podio Anche a Missidale Comunque sono soddisfazione No, questo è vero Poi questa sera ho chiesto Ai nostri amici Della Seller Mi fai sfilare Con un tuo vestito Tipo principessa Con la coroncina E quindi farò questa sfilata Assolutamente fuori programma Per realizzare Il mio sogno Di mettere una coroncina Io starò seduto Lì in prima fila E vedrò questo No, no Vedrò questo spettacolo Bello Cercherò di farti ridere 20 anni ragazzi 20 anni Ma io partecipa Per una bambina 12 anni 11 11, 12 Ma avrei avuto 8 anni Bravo, bravissimo Non era Missondina Sport Era baby Missondina Sport Insomma Grazie mille Di tutto Ma lo vogliamo dire Quanti anni ho? Io non mi sono permesso Tu lo sai Quanti anni ho? Se lo sai Lo puoi dire 34 Lo sapevo Oh mio Dio Però se riporta bene Non è vero Non scappare Facciamo solo contatto Solo 34 34 contatto Contatto 34 volte Contatto Ciao 20 anni di Ondina Sport Caro Conte Max Eh ragazzi 20 anni Sono tanti Io insomma Se ci penso Mi viene la pelle d'oca Io ormai Sono quasi 10 anni Che presento Missondina Quindi insomma Anche io C'ho la metà degli anni Del concorso Quindi insomma Siamo qua Siamo qua Poi contatto television Ragazzi è un nome Una garanzia Insomma Poi non ci si vedeva da tempo Eh appunto Quindi è sempre un piacere Stare insieme Allora complimenti Per l'abito da sposo Io devo ringraziare Anita Sposi Perché insomma Praticamente Ha preso Barbara Di Palma E il Conte Max Ha detto Io vi faccio convolare a nozze Soltanto appena sera Poi insomma Tutto finito Tutto fittizia Quindi mi dispiace Questa cosa Lo spettacolo è finzione Non è tutto vero Quindi ci sta questo matrimonio Detto alla napoletana Pezzotto Assolutissimamente sì Dieci anni Sono dieci anni Di questa manifestazione Che tu presenti In realtà sono vent'anni Di Ondina Sport Però in questi dieci anni Cos'è che porti nel cuore Di questa manifestazione Guarda Ogni anno È un'esperienza diversa Ogni anno Mi dà qualcosa in più E posso dire che Miss Ondina È la differenza È la differenza Dei concorsi di bellezza Non me ne vogliate Non perché io sia di parte Ma perché Insomma Lo possono confermare Le ragazze Perché ci sono ancora Alcune ragazze Che tornano da noi Soltanto per il gusto Di stare insieme a noi Queste sono piccole soddisfazioni Per una grande realtà Come Miss Ondina Sport Assolutissimamente sì Conte Max Grazie mille Ragazzi Consentitemi di salutare Il cocciolone Ciao Nick Vaino Che è una vita che non ti vedo Ti ho chiamato Vabbè Un bacio forte Ovviamente A tutti gli amici Di Contatto Television Perché quando Ho iniziato io Con Contatto E ne ho passata di acqua Sotto i conti Insomma Ecco L'ha detto Tarcisio Ragazzi Io stavo nascendo Quando il Cote Max Presentava E la conduceva Contatto Ebbene dai Facciamolo perché Non può mancare Contatto My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose her Sleep on now Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you Yes she caught my eye As I walked on by She could see from my face That I was fucking high And I don't think that I'll see her again But we share a moment That will last to me You're beautiful You're beautiful You're beautiful Amici di contatto Termina Miss Ondina Sport 2013 20 anni di storia Grazie mille a tutti voi Che ci avete seguito www.contattotelevision.it È il nostro sito ufficiale Cliccate mi piace Anche sulla nostra pagina Facebook Contatto Television Napoli Ciao a tutti Da Timo Suarez Insieme a me Ci sentiamo ogni giorno Su Radio Ibiza Ringrazio Nick Paino Armando alla regia E alla parte tecnica E voi restate sempre in contatto